live tv channel the break news amici live sono sempre qui alla gallia e celsior luxe collection che è il locale numero uno a soprattutto per il milano fashion week infatti questa è la milano fashion week la più attesa la più veramente memorabile perché oggi abbiamo degli stilisti stupende modelle selezionate ospiti illustri vip sono qui con due personaggi veramente fantastici inizio dalla sinistra perché si fa sempre prima a sinistra poi a destra lui con il Wilmer Mlafredini come va Wilmer? va benissimo allora intanto grazie ma non so perché a sinistra e non a destra ma va bene così in Italia sinistra e destra ah si va bene allora visto che siamo in italia va bene così e cosa dire il gallia oggi ci ospita in questa meravigliosa kermesse non c'è difficile descrivere un posto come questo perché è il numero uno a milano ricordiamo che qui accadono le cose durante l'anno più belle più in mercato il nostro evento di fine anno che è importante quello di Norberto che poi andiamo a testare infatti quello che faremo a dicembre insieme bene poi sono qui con ovviamente Norberto Witter della Svizzera che parla benissimo italiano ma ci può insegnare anche a noi perché lui è bravi sa quattro lingue mi sembra beh grazie a lui che siamo qui perché lui è di casa qui organizza molti eventi sui certi abbiamo partecipato anche noi invitato appunto a lui stesso e lui veramente è anche fra l'altro fra i fotografi più ambiti per quanto riguarda la moda e quindi il cinema e quindi anche tutta la televisione tutto con certe pubblicità come vedi questo evento qui che sei di casa a te allora innanzitutto mi fa molto piacere che con Wilmer e con con me ho potuto dare un contributo a permettere l'accesso a questi organizzatori perché c'ho un certo contatto che è molto utile e come ha detto Wilmer la location è stupenda e per me è la più bella che c'è a Milano la linea della regia signore e signori vi uvito a guardare con attenzione e con tanto entusiasmo la scelata della nostra stilista Tina Grazzi chiamand.com 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.